Alla presenza dei responsabili SUAP dei comuni della provincia, oggi è l'occasione giusta per tracciare il punto dello stato dell'arte? Sì, tracciamo il punto dello stato dell'arte e ci avviamo verso un futuro che deve essere sempre più sportello unico delle attività produttive per i comuni. In un momento di cotanta crisi è necessario che i comuni si attivino, cerchino di agevolare, facilitare, sburocratizzare tutte le procedure amministrative relative a chi vuole aprire un'attività nei vari comuni della provincia. La Camera di Commercio svolge un ruolo, lo vuole svolgere nell'interesse delle imprese. La Camera di Commercio e la Casa degli Imprenditori svolge questo ruolo di comune accordo con le amministrazioni comunali. Questo è un compito, abbiamo trovato grande e larga approvazione da parte delle varie amministrazioni comunali e avviamo e proseguiamo questa attività assieme. Oggi presentate anche la procedura di istruzione delle istanze al SUAP comunale. Sì, questo è un aspetto tecnico che riguarda proprio la sburocratizzazione, la velocizzazione di tutte le attività e di tutte le autorizzazioni che sono connesse con l'apertura di un'attività. Basti pensare che non solo il semplice esercizio di vicinato ma anche un bar o un ristorante che prevede quindi la somministrazione necessitano di una serie di autorizzazioni che proprio con il SUAP, con lo sportello unico delle attività produttive attivo, viene a velocizzare tutte quelle che sono le procedure che portano quindi molto più velocemente all'apertura di un punto vendita. Qual è l'importanza della SUAP comunale? Noi oggi stiamo organizzando questo incontro con tutti i comuni della provincia per fare il punto della situazione perché purtroppo nella nostra provincia ci sono dei comuni che già hanno attivato la procedura, l'istituzione dello sportello e anche la procedura, la piattaforma telematica. Tantissimi altri che purtroppo non l'hanno fatto. Allora per evitare che gli stessi comuni possano essere diffidati sia dal Ministero dello Sviluppo Economico e anche dalla Prefettura perché è un obbligo di legge all'attivazione dello sportello unico, noi abbiamo voluto fare questo incontro anche per sollecitare, ingentivare e stimolare gli enti. La Camera di Commercio è a disposizione dei comuni, quindi si pone come un momento di incontro per affrontare le problematiche sia di natura tecnica che di natura giunidica possono esistere per vedere di realizzare nella nostra provincia il massimo degli sportelli attivi così come è stata realizzata in qualche altra provincia della nostra Sicilia e in particolar modo nella regione siciliana.